potete contare su di noi servono altre reclute sire catapulta pronta mio signore ne siete sicuro è verbo e mi resta colma mio signore e si vanno veramente ragazzi fanno cagare e contare su di noi servono altre reclute sire serve della pietra muoviamo la catapulta potete contare ragazzi che abbiamo fatto spendere il grosso dei soldi adesso ne ha pochissimo 500 quindi non farà moltissimo ne avevo un sacco ora pian piano ragazzi faremo in modo di recuperare e io che pensavo di farla fra anche in questa partita potete contare su di noi servono altre reclute sire i tuoi alleati il magazzino è stracolmo mio signore l'ho capito vediamo se possiamo ingrandirlo è proprio davanti alla porta finisce butto a terra sta gilda qui non è possibile mio signore meno uno la gilda facciamo un'altra parte facciamo qua fuori potrei provare a mettere sulle scale ma ma non credo proprio in attesa di ordini le scorte nel granaio crescono mio sire quello si sta riprendendo il mio arco è vostro forse è la più facile eliminare quella solo le strutture del serpente ragazzi sono intricate non sono difficili da distruggere se c'hai degli spadaccini ma se hai soltanto l'angeli di merda in attesa di ordini servono altre reclute sire veramente fanno schifo fanno schifo male poi certo io ho un sacco di arcieli in difesa del mio alleato vediamo se riesco a farne un centinaio ragazzi e gli mando gli attacco il nemico su due lati così loro perdono tempo e nel frattempo poi con i lanceri sfondo abbiamo finito i soldi comunque sarà difficile per lui giocarselo stavolta in attesa di ordini servono altre reclute sire diteci cosa fare andiamo ci muoviamo sono pochi i puoi alleati il legname sta per finire in attesa di ordini servono più armi sire mio signore senti il potere addio quando ci sono le unità qua allora io provo ragazzi attaccarlo su due fianchi solo ed esclusivamente per adesso con gli arcieri in attesa di ordini servono più armi sire cosa volete immediatamente mi tolgo un po' di difesa in attesa di ordini si vado arcieri pronti tanto non dovrebbero essere una minaccia loro così se attacco su due fianchi non dovrebbero avere modo di recuperare tempo di svuotagli l'intero castello e poi gli mando i lanceri a massacrarli a massacrarli ci muoviamo mio signore è l'unica ragazzi non ho altra scelta potete contare su di noi serve della pietra muoviamo la catapulta cosa volete immediatamente in attesa di ordini vado si ci muoviamo un messaggio dal serpente è ora di andarsene sta facendo rientrare gli arcieri vai ragazzi forza in attesa di ordini arcieri pronti è una bella corsa il mio arco è vostro eccellente mio signore ok hai finito amico hai finito una volta senza soldi senza soldi non devi stare a fare un cazzo ci muoviamo sarà una passeggiata l'ho borbardato ragazzi e l'ho chiuso ha finito di lavorare il nostro caro ratto caro serpente in attesa di ordini un messaggio dal serpente credo che dovrei proprio ciao ben ben ci vediamo alla prossima grazie per essere passato cosa ci aspetta abbiamo il tempo ragazzi quindi lo faccio con molta calma senza strategia andiamo ad affondare l'altro bellissimo avversario che abbiamo si l'armeria è stracolma mio signore e dai cosa ci vuoi per buttarlo giù nessun problema potete contare su di noi piazza pulita ragazzi forse lo ammazzano gli arcieri un messaggio da serpente come osi sfidarmi come osi mettere in dubbio il mio dominio su queste terre lo fanno fuori gli arcieri stessi catapulta pronta mio signore muoviamo la catapulta in attesa di ordini servono altre reclute sire i tuoi alleati oh bene 120 ripulito ragazzi un messaggio dal serpente risparmi amico io volevo schierarmi al tuo fianco lo giuro arcieri pronti il mio arco è boss un messaggio dal ratto il mio padrone si congratula per il tuo recente trionfo senti il potere l'armeria è stracolma mio signore infatti loro la collina ce l'hanno riempita di truppe di nuovo piena all'armeria potete contare su di noi servono altre reclute sire le scorte nel granaio crescono mio sire inghessendo senza il potere il potere lo sentono pure gli altri quelli che hanno perso loro ho maggior ragione l'hanno sentito proprio dietro le spalle tipo una spalla sulla spalla che ti parla diciamo di si diciamo che hanno questa strategia qua c'è il nostro scrivano qua sotto che ci parla ci dice prende il potere in attesa di ordini servono altre reclute sire cosa volete? allora in attesa di ordini è una disfatta cosa ci aspetta? dei gruppetti un messaggio dal ratto il mio padrone richiede la tua assistenza immediata ma co ma va a cagare dai ci so io che ti difendo meglio così il nemico sfrega risorse si svuota il castello si e noi lo attacchiamo vado arcieri pronti è una disfatta catapulta pronta mio signore l'armeria è stracolma mio signore una rottura di coglioni sta armeria potete contare su di noi servono altre reclute sire il mio arco è vostro ci muoviamo mio signore si sa ragazzi la prima ondata va male perchè comunque hanno ancora troppe risorse i tuoi alleati un messaggio dal ratto mio padrone ti informa che per oggi non attaccheremo cosa volete? in attesa di ordini infatti ci hanno massacrato noi chiamiamoci un po' di problema ci prepariamo forza potete contare su di noi recupereremo con il prossimo giro in attesa di ordini servono altre reclute sire a 10.000 d'oro 10.000 d'oro 10.000 d'oro sono tanti potete contare su di noi servono altre reclute sire potete contare su di noi servono altre reclute sire io sono il potere io sono il potere potete contare su di noi servono altre reclute sire data pulta pronta mio signore ci prepariamo dai invastidiamolo invastidiamolo potete contare su di noi servono altre reclute sire cambiando tutte le risorse gli andranno a portare poi vedrete ragazzi un messaggio da settembre come osi sfidarmi come osi mettere in dubbio il mio dominio su queste terre data pulta pronta mio signore ci prepariamo ti faccio fare più nulla in attesa di ordine potete contare su di noi servono altre reclute sire eh hanno finito il legname ragazzi quanto mai sempre senza legname siamo non c'è legname ragazzi adesso la mia economia andrà a rotoli sono costretto a recuperare serve del legname ma no ragazzi e adesso che cazzo si fa? se io non posso acquistare no vabbè dai i tuoi alleati non c'è spazio nel magazzino guarda che botta di culo c'è ecco perché non serve un il mercato ragazzi è pericoloso se non c'è catapulta pronta mio signore muoviamo la catapulta muoviamo la catapulta poche chance ragazzi di successo adesso ci prepariamo cioè se se non posso più se non ho legname non posso fare più le armi servono più servono altre reclute sire senti il potere serve della pietra la pietra non manca ci prepariamo fortunatamente non manca la pietra catapulta pronta mia signore muoviamo la catapulta ci prepariamo catapulta pronta mia signore in attesa di ottene potete contare su di noi servono altre reclute sire dove andiamo? andiamo eccellente eccellente catapulta pronta mia signore catapulta pronta mia signore catapulta pronta mia signore catapulta pronta mia signore ci prepariamo sempre pronto fanno troppo cagare ragazzi fanno troppo cagare cosa ci aspetta? è una bella corsa sai che è l'atto finale ragazzi quindi potendo sì immediatamente posso inviare tutte le disruppe vado diteci cosa fare salvo ragazzi atto finale atto finale di questa partita stiamo attaccando tutti insieme un messaggio dal ratto il mio padrone il mio padrone è d'accordo dove andiamo? dov'è la mia pala? sempre pronto profondo quanto cosa ci aspetta? il fossato il mio arco è vostro ci muoviamo mio signore un messaggio dal serpente credo che dovrei proprio diteci cosa fare ho le scarpe bucate un messaggio dal serpente è ora di andarsene che cazzo ha fatto? tutto lo schermo ha spostato dove andiamo? è un lungo cammino che cazzo ha fatto? tutto lo schermo ha spostato è un lungo cammino si mio signore forza uomini cosa ci aspetta? un messaggio dal serpente eliminato risparmi amico io volevo schierarmi al tuo fianco lo giuro eliminato un messaggio dal ratto il mio padrone si congratula per il tuo recente trionfo 3 su 3 ragazzi ho eliminato 2.997 truppe 3 3 5 8 9 10